La maglia che porto addosso. Del 46 auguri di buon compleanno. Grazie, ringrazio tutti. Questo virus mi ha preso alla sprovvista, proprio non pensavo che arrivasse tutto questo, pensavo che era un semplice raffreddore. E invece una bella bronchita. E' una bella bronchita, purtroppo che vuoi. Qualche stregone ha voluto che io non ci fosse domenica. Ma ci sono sempre. Dal balcone? Dal balcone butti il sale e ci sarà mia nipota a buttare il sale. Con la maglia e con la fele. Sale di baccalà o sale? Sale normale, sale normale che fa effetto pure. Non sarà però la stessa partita? Sarà una partita io soffrirò dalla finestra dell'ospedale. Però sono presente, sono sempre presente. E la mia cosa è sempre forza cratone, fino alla fine. In me c'è anche un tifoso di me, quello che mi sta curando. Come si chiama? Quello è il reparto interno di medicina, il dottore Galdieri. Ah, e quindi fa il tifo per lei? Sì, e in compagnia lui ha portato il sale e lo buttiamo dalla finestra insieme. Un sale potente contro questi stregoni? E' un sale contro il malocchio, contro tutti. Abbiamo tante vipere che soffrono la serietà del cratone. Una bronchite acquita dal suo tifo il giorno contro il Verona, perché è insultato a quei tre gol. Eh sì, ha fatto il birichino. Al terzo gol ho sforzato, ho gridato assai. Eravamo con mio cognato a casa mia e suo figlio. Il signor Giardino. Il signor Giardino. Tanto è vero che mi ha trattenuto lui dello sforzo che avevo fatto. Non pensavo che potesse arrivare a questo. E poi è avvenuto il ricovero, quando? Ieri mattina, verso le sette e mezza, sono stato ricoverato d'urgente. E' avvenuto il pronto soccorso. Non respiravo, proprio... Mi era cauta una maledizione. La maledizione? La maledizione di Mialovic? Eh, di Mialovic, di Sarri. Di Oddo. Di Oddo, di tutti quanti. Quelle che sono state contro di noi. Noi saremo sempre forti. Ma lei ora ce l'ha un po' di voce per farci sentire un coro. E us'ha capito niente la 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 us'ha capito niente la 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 e poi ecco vorrei ricordare abbiamo parlato prima della vittoria del Crotone dei nuovi acquisti ringrazio Ricci che mi ha mandato gli auguri due anni fa e ha portato fortuna e abbiamo vinto il campionato adesso è ritornato Ricci che mi faccia di nuovo gli auguri e così ci salviamo e che mi ha promesso la maglia due anni fa Quindi glielo ricordiamo di non fare il birichino e portare la maglia Esatto E per finire come si dice? E fino a quando possiamo cantare Maurizio Sarri Va già a fare E fino a quando possiamo cantare Catanzaro Va già a fare Buon compleanno di nuovo Grazie 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 a tutti Sei un grande Danè Non mollerò io Mai Mai Finché ce la farò Sarò sempre Su Raffaele Marcella